buongiorno buongiorno a tutti siamo un po in ritardo ma ci siamo come ogni giorno ci siamo sempre allora non è un dissing o forse sì no non è un dissing anzi è una richiesta anche perché i destinatari di questo messaggio sono anche degli amici basta dissing basta è quello che dissa quell'altro che dissa ancora quell'altro che dissa pure me basta ragazzi con questi dissing non avete capito che fate solo il gioco di chi sta comunque facendo di tutto per farci perdere questo scudetto non è accettabile una cosa del genere un dissing totale tutti contro tutti anche dall'interno come se non bastassero tutti quelli che sono contro l'inter e vogliono creare destabilizzare cosa facciamo ci mettiamo pure noi e l'ho detto prima io no l'ho detto prima lui e non mi ha fatto salire il live basta basta abbiamo ancora quattro partite una più importante dell'altra ci stiamo giocando tutto e e poi ritornano rifioriscono pifferai arancini e tutto quello che volete e mancano le quattro partite più importanti dell'anno e ancora cosa fanno questi e le sparano una più grossa dell'altra per far vedere chi l'ha detto prima chi ne sa di più ci sono le quattro partite più importanti della stagione vi sembra che sia il caso di fare tutto questo casino di mettervi tutti contro tutti io non ho parole non ho parole e visto che poi ero stato attaccato anche io ma non ho fatto nessun tipo di video anche se avrei potuto ho chiarito face to face chiaritevele face to face le cose fatevi una telefonata ve le chiarite basta con questi video per fare visual per fare dissing concentrati uniti tutti in trincea basta fare il gioco degli altri basta veramente non se ne può più visto che poi ero stato attaccato anch'io mi hanno detto ma tu cosa vuoi io sono praticamente in curva ogni giorno per difendere l'inter sono in curva ogni giorno per difendere l'inter da tutto quello che succede da più di vent'anni quindi posso parlare di inter penso di averlo dimostrato sul campo a mio modo e state tranquilli che non è per niente facile fare quello che faccio io dove lo faccio nel modo in cui lo faccio con le pressioni che ci sono a 360 gradi è una partita anche quella che ha bisogno del sostegno di tutti quindi basta tutti contro tutti basta basta fatelo se volete farlo che non serve a nulla fatelo quando è finita la stagione quando è finito il campionato anche il te caldo più famoso di youtube non ne può più tirate un respiro fate un bel respiro se volete vi chiamate tra di voi ma basta inondare di dissing questo social che già non è che abbia contenuti di così altissimo livello però non facciamo il gioco di chi vuole mandare al tappeto l'inter a parte questa parentesi parliamo un po' di notizie perché barella è tornato in gruppo penso però che verrà preservato per la finale coppa italia si sta cercando di recuperare bastoni ma sapete molto bene come il polpaccio sia una zona molto delicata e non giocherà sicuramente con l'empoli su barella deciderà in zaghi poi si spera che ci sia il gruppo al completo alla condizione massima prima l'empoli e poi mercoledì a roma la coppa italia senza sottovalutare l'empoli mi raccomando perché mi arrivano già messaggi tutti che sperano nella sconfitta del milan quando saremo già in testa è lo stesso errore che si è fatto a bologna e lo conferma anche il nostro microonde non pensiamo di aver già vinto contro l'empoli prima di scendere in campo e non scendiamo in campo con quell'ansia da prestazione che ha portato alla sconfitta le ha regalato lo scudetto se non ci sarà un regalo al contrario è giusto così poi solo dopo si penserà alla coppa italia quindi partita per partita uniti compatti per cercare di andare al traguardo e di provare l'impresa quasi impossibile che bisogna comunque tentare con una situazione e per questo vi dico basta dissing molto molto apparecchiata per la festa di quegli altri con un'aria strana come vi ho detto e lo constatiamo da tanto tempo con tutti anche i giornali che sembrano da mesi aver apparecchiato la festa qualche situazione un po' dubbia però come normale che sia un po' in tutte le gare però se vengo a sentire che non c'era il fallo di Pablo Mari su Giacomo mi viene da ridere e qui arrivano da Udine le polemiche sul rigore non solare di più che è stato fischiato all'Inter e vorrei anche vedere l'unico che non l'aveva visto era l'arbitro in campo e anche qui farei un attimo mente comune per capire insomma che non servono appunto guerre intestine ma solo unità e cercare di supportare al massimo per arrivare a un obiettivo così come sento tanti canali ormai cioè fare i bilanci definire in zaghi un perdente l'annata fallimentare tutto ancora prima del gong e del fischio finale io avevo detto un game over scaramantico sicuramente molto diciamo condizionato e sentito dalla delusione di come è stata buttata via la partita di Bologna quasi senza combattere delusione delusione che arriva anche da tante squadre che sono già in vacanza e speriamo che le ultime tre non lo siano già non lo siano già e quindi da detto ai lavori secondo me tre quarti di scudetto sono già stampati sulla maglia del Milan però sappiamo molto bene come tutto possa succedere il contrario come la palla sia rotonda e proprio quando meno te lo aspetti l'abbiamo visto a Bologna arriva la brutta sorpresa speriamo che si che ricapiti a parti invertite quindi concentrazione massima e poi vedremo come si finirà questa stagione non credo non posso assolutamente sentire condividere tutti quelli che massacrano adesso Inzaghi a quattro partite dalla fine di questa stagione dopo aver comunque riportato l'Inter agli ottavi di Champions aver vinto la Supercoppa essere qui comunque a giocarsi lo scudetto con tanti errori che spesso poi non sono colpa di Inzaghi ma di chi scende in campo o magari anche di chi non gli ha dato tutti gli strumenti necessari per per arrivare al traguardo facevamo l'esempio tra Arnautovic pagato 3 milioni e Correa 35 forse qualche domanda è lecito porsela anche se anche lì la sfortuna è stata decisiva determinante con tutti gli infortuni che hanno segnato la stagione del Tuku che ancora fatica a carburare e ancora lontano parente di quello che fece vincere le partite con Verona e Udinese poi però una quella buona prestazione con il Napoli con l'assist per Lautaro poi poco niente per tutta la stagione direi a parte quell'assist al Toro nel derby di Coppa Italia vedete anche sui giornali non solo ogni giorno c'è un articolo su quello che va via sui sacrifici che bisognerà fare su tutti i giocatori che l'Inter saluterà demotivandoli creando comunque destabilizzazione e non dovrebbe essere un'altra dimostrazione del fatto che bisogna rimanere più uniti che si può tutti in questo momento anche anche i giornali di oggi vanno giù pesanti nel senso che si parla ormai sempre più di Dybala che come vi ho detto ha scelto l'Inter qualcuno diceva anche del Milan c'erano stati contatti anche in quella direzione lì Manchester United Atletico Madrid vi ho sempre detto che la preferenza di Dybala è rimanere in Italia e sarebbe l'Inter sempre che non arrivi un'offerta che sbaragli la proposta dell'Inter che gli ha chiesto di aspettare e di vedere cosa accadrà in questo finale di stagione soprattutto nel mercato di uscita nerazzurro la necessità è quella di fare cassa e liberare spazio sul Monte Engaggi soprattutto con i cileni però anche altre pedine diciamo potrebbero essere sacrificate se arrivassero delle offerte importanti e qui abbiamo letto del Bayer Monaco su Dumfries però Bayer che ha praticamente già chiuso Masrawi che ha lo stesso ruolo quindi anche quell'interesse mi sembra un po' comandato a distanza poi abbiamo detto di De Vrij che deve prima di tutto rinnovare il suo contratto e poi si vedrà se arriveranno delle offerte ritenute valide per un giocatore che ha un ingaggio di 5 milioni netti che quindi anche lui potrebbe liberare spazio importante per l'arrivo di Di Vala con anche la situazione Lukaku quanto mai alla finestra l'Inter cercherà di capire anzi aspetterà di vedere le evoluzioni del mercato europeo del Valzer delle punte che si potrebbe innescare con il passaggio di Mbappé al Real Madrid sempre che decida così sempre che le pressioni anche ad altissimo livello direttamente dallo stesso Macron non gli facciano cambiare idea e allora con Conte che potrebbe prendere la via di Parigi e chiedere a Romelu di seguirlo sicuramente però Lukaku non prenderà mai in considerazione l'ipotesi Milan nonostante voglia a tutti i costi lasciare il Chelsea questo non ci mettiamo la mano sul fuoco perché siamo già stati ingannati una volta ma dovrebbe essere rispondere diciamo al vero posto che come sappiamo molto bene non c'è mai niente di 100% finché non è messo tutto è firmato nero su bianco dunque si va avanti aspettando certo che Di Bala è sempre un po' più di vicino all'Inter e adesso leggeremo anche la gazzetta che lo mette in prima pagina per tutti gli altri discorsi i sacrifici si proverà a fare diciamo un grosso lavoro in uscita con tutti diciamo i giovani e gli esuberi però è un discorso che facciamo da anni poi non si riesce mai praticamente a vendere nessuno mi riferisco ai Lazzaro ai Dalbert o se pensiamo anche all'anno scorso come siano stati rescissi i contratti di Joao Mario e Nainggolan senza portare nessun tipo di vantaggio se non il risparmio nel monte ingaggi vedremo l'abilità di Marotta Ausilio Baccin che potranno operare e trovare anche fondi per il mercato in entrata si parla di Pinamonti si parla di Satriano Agumet tutti che se arrivasse l'offerta giusta un'offerta importante potrebbero essere sacrificati per non dover vendere dei big e non essere attratti da offerte irrinunciabili però adesso non bisogna neanche fare queste pensare continuamente al mercato a quello che succederà io naturalmente rispondo alle vostre domande e vi dico quello che sta accadendo realmente andiamo ora a leggere un po' di vostri messaggi anzi lo facciamo nel prossimo video perché siamo in ritardo e così lo mettiamo subito in pagina e andiamo subito a online ed è quello che più ci preme basta basta dissing intestini fatemi questo piacere se vi volete scannare fatelo alla fine della stagione e basta anche e lo dico ad altri canali anche qui ad amici basta iniziare con questi processi sommari ancora prima che sia finita la stagione nonostante l'Inter ci abbia messo del suo per regalare lo scudetto al Mino però ci sono ancora tre partite e c'è questa finale di Coppa Italia veramente importantissima e fondamentale per provare a vincere un trofeo che manca dal 2011 quindi undici anni lunghi senza vederlo nella bacheca di via era di corso Vittorio Emanuele e adesso è in via della liberazione prima parte del video poi messaggi soprattutto andiamo a leggere la gazzetta e come ci descriverà la situazione di Bala tra poco e vado anche a prendermi il tè e ce lo beviamo come ieri tutti insieme insieme e a a a a